Allora vi presento un breve video su come programmare e usare il decoder di ccworld di ccvtec01 con il multimouse come segnale sto usando un orribile segnale dell'ascetta a due vele sto usando solo la vela alta quindi lo sto usando come se fosse un segnale ad una vela il segnale è a positivo comune e abbiamo il positivo collegato sull'uscita positiva del decoder che è questa qui e abbiamo poi il rosso collegato all'uscita rosso 2 e il verde collegato all'uscita verde 2 andiamo a programmare il decoder per dirgli che deve gestire 4 segnali a una vela incomincio per sicurezza con un reset del decoder perché prima ho fatto delle prove e non mi ricordo i valori e preferisco partire da una esitazione di decoder pulito quindi siamo in programmazione ok cv8 ok valore 8 ok successivamente per impostare 4 segnali ad una vela è scritto sul manuale ma io lo ricordo a memoria bisogna impostare la cv543 uguale a 1 quindi non ok cv543 ok valore uguale a 1 ok importante questo cv si può scrivere ma il valore letto è sempre 0 ok adesso essendo questo decoder a positivo comune è necessario andare a invertire la gestione dell'uscita dove è collegato perché i valori predefiniti per gestire i segnali sul decoder sono a negativo comune la cosa è facile anche qui si usa la cv544 spiegato anche questo nel manuale noi andremo a girare solo le uscite collegate al momento a questo segnale ho fatto prima due calcoli su questo foglio la cv si programma a bit per invertire le uscite r2 e v2 dobbiamo sommare i valori del bit 16 e il valore del bit 32 questa definizione non è corretta ma è giusto per dare un'idea quindi dobbiamo scrivere in questa cv il valore 48 rimando per la programmazione a bit le pagine di cc word quindi adesso di nuovo ok cv 544 ok il valore 48 ok il decoder è programmato proviamolo usciamo dalla programmazione diamo l'indirizzo al decoder io uso per fare le prove sempre l'indirizzo 1 perché è molto comodo con gli indirizzi maggiori specialmente se non si è pratico con il decoder si rischia di fare casino non è un problema perché l'indirizzo si può cambiare successivamente quindi ho pigiato il tasto e lei ha iniziato a lampeggiare per dare l'indirizzo 1 basta muovere lo scambio 1 vediamo già che si è acceso il rosso e sono indeviata mi metto in corretto e abbiamo il verde se vuoi accendere il giallo e il giallo lampeggiante inserisco l'indirizzo successivo che è il 2 quindi indirizzo 2 ok e sovreremo il giallo e il giallo lampeggiante una nota come dicevo questo segnale è veramente di bassissima qualità non ha un diffusore quindi la luce gialla in realtà non si vede si andranno a vedere solo le luci rossa e la luce verde accese in contemporanea proviamo subito non so se si intravede quell'arancione questo è il giallo lampeggiante che è uno dei quattro aspetti del segnale ad una vela e questo è il giallo fisso ci siamo? e questo per il momento è tutto ovviamente da qui in poi potete anche cambiare l'indirizzo e fare altro o collegare altri segnali al decoder che con questa configurazione per esempio supporta quattro segnali ad una vela ciao